...campo come un fallimento. Ora il nuoto, quasi un mezzo e mezzo negli Stati Uniti, adesso Fabio Scozzoli sta recuperando dal lungo infortunio al ginocchio. È tornato in Italia e sentiamo cosa ha detto in esclusiva a Ray Sport al microfono di Tommaso Mecarozzi. È un infortunio dal quale comunque si esce al 100% e sono tranquillo. Nonostante i segni del dolore è un Fabio Scozzoli sereno e deciso, rientrato da poco dalla Florida. Così, nella piscina di Imola, tra Vasca e Pesi, vede la fine del tunnel. In quelle cinque settimane io sono tornato un ranista e questo mi ha fatto veramente rinascere. Oltreoceano, tutti i giorni a contatto con Felipe Lima, bronzo mondiale a Barcellona. Stimolo è al tempo stesso punto di riperimento, anche per ritrovare la gambata a rana, di per sé innaturale e per questo estremamente delicata dopo la rottura del crociato. La sensibilità migliora di giorno in giorno e anche sotto grandi sforzi il ginocchio comunque risponde bene. E poi c'è il cronometro che cala e quindi i tempi migliorano e questo mi conforta molto. Allora, passando per gli assoluti di Riccione, barra verso l'Europeo di Berlino in estate. Balzi, balzi e ancora balzi, come un canguro, per rinforzare il ginocchio, visto che... Il programma riabilitativo diciamo che è praticamente finito, il programma medico in pratica. Adesso la mia riabilitazione è fare quello che so fare.